Sperimenta e gioca con Spank. Primo esperimento, i bicchieri. Oggi farò vedere ai miei amici un super sperimento da farlo. Per questo esperimento ci servono due bicchieri, questi due bicchieri fatti di plastica e una macchinina di giocattolo. Voi inserite l'acchina di giocattolo dentro il bicchiere, ma mi raccomando non riempitelo d'acqua e poi lo chiudete con l'altro. Eeeeh hopla! Guardate, il bicchiere non ha niente. E adesso proviamo a richiuderlo. Ok. Oh, la macchina è al suo interno del bicchiere adesso. Che esperimento geniale Spank. Sì, micco player. Lo voglio fare vedere ai miei amici. Oh, stanno arrivando i miei amici. Ciao Spank. Vogliamo vedere il tuo esperimento che ci avevi promesso. Certo. Vi spiego qual'è l'occorrente. Due bicchieri di plastica e una macchinina di giocattolo. Molto interessante. e vediamo cosa sai fare con queste cose. Allora, metti la macchina in questo bicchiere. Poi con l'altro bicchiere chiudilo. Guardate un po'. Oh, mamma mia Spank. E adesso la sai potete farvi riapparire. Oh, guardate un po'. La macchina è riapparsa. Oh, mamma mia Spank. Ma tu sei un genio. Secondo esperimento. Il cannocchiale. Oggi mi è venuto in mente un super esperimento da fare ai miei amici. È un esperimento con il cannocchiale. Prendete queste due parti di una specie di contenitore. Tipo deve essere così. E mettiamole così. a metà parte. Poi inseriamoci da una parte questo cannocchiale che in realtà è un tubo di cartigenica. ma nel mondo di giocattoli la usiamo come cannocchiale. E mettiamoci un giocattolo di fast food oppure se preferite una macchinina. E la mettiamo al suo interno. ecco qua. Non ci sta molto. E poi guardate un po' la magia. È una magia pazzesca. Riusciamo a chiudere tutte le due parti? Così. Poi aspetta. Poi vediamo un po'. Adesso vediamo un po'. Guardate! Si è infillato! E poi riproviamo di nuovo a chiudere. E ha ritornato di nuovo com'era. Avete visto che magia? Bellissima! Ha ha! Terzo esperimento. La galleria. Oggi mi è venuto in mente un super bellissimo esperimento da fare ai miei amici. Prendiamo queste cose. L'occorrente. Rotorio di cartigenica. Macchinina, giocattolo e contenitore. Metà del contenitore. Si. Mettiamo la macchina qui. Facciamo fin da che sia la galleria. Chiudiamo la luce. Vediamo un po'. Quando sentiamo la luce cosa succede? Avete visto? Si sta illuminando! Si sta illuminando questa parte! Vi sono piaciuti i miei scherzetti? Allora lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Ciao! E al prossimo video di esperimenta e gioca con Spen!